Sono pronte. Ciao, sono Federica e sono dell'aliceo Newton e presto i commissi mediani. Se ti dico democrazia, cosa ti viene in mente? Al giorno d'oggi non è che ne abbiamo molti esempi di democrazia, però è un bel sogno. La democrazia, secondo te, è la miglior forma di governo possibile? Sì, assolutamente. Quali sono oggi i problemi della democrazia in Italia? Sì, ci farebbero molto da dire. Sicuramente non abbiamo i tempi di vero e pubblico. Ci sono sempre i problemi dall'origine, tutti che fanno quello che vogliono. Poi abbiamo la malamita, perciò la legge non è uguale per tutti. Qualche pregio? La democrazia, ebbè la democrazia è un pregio in per sé. Che differenza c'è tra democrazia e repubblica? Sulla democrazia e repubblica. La repubblica è in qualche modo parte della democrazia. L'Italia è democratica, perché? E' democratica perché ogni cittadino è uguale agli altri, senza distinzione. Religione, sesso, etnia, ricchezza, qualitamente politica. Esiste il bisogno di democrazia da parte dei cittadini in Italia? Di me? Di democrazia. Sì. Può esistere democrazia senza partecipazione? No. La democrazia è partecipazione di tutti, alla vita politica, alla vita del... Grazie. Grazie.